Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Un Mondo di Cubi One banana, two banana, three banana, four banana One banana, four banana, one banana, three banana, four banana, four banana, four banana, banana Ok ragazzi e spero che in questo video vi sia piaciuto voglio giusto ricordarvi che in questo video non sono state offese banane in nessun modo e non ne sono state maltrattate Quindi voglio ringraziamo il coro dello zecchino d'oro Esatto voglio ringraziare anche Matthew Fire Che cosa? Perché mi hai chiamato? Perché te sei brutto e ringrazio e saluto anche se com'è me ne ho ricordato uno Ciao ragazzi Sì lo so ragazzi siamo dei folli ma non segnalateci vi prego non segnalateci Allora Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video adesso potrei dirlo dai E appunto ragazzi siamo qua oggi per fare un altro episodio di Un Mondo di Cubi anche se non sembra dalla intro che c'è stata Spero che vi sia piaciuto a proposito perché non so eravamo lì in chiamata su TS dovevo cominciare a registrare quando uno di loro Matteo Fire o Mnemonic non mi ricordo A proposito di fare No Mnemonic Matteo Fire l'ha proposto ecco A proposito di fare questa cazzata delle banane Non so cosa sia però è venuta una cosa abbastanza carina e penso che la metterò nel video Allora ragazzi ho lavorato un po' off camera con un po' intendo che ho nerdato come un folle E vi faccio anche vedere che ho appunto cominciato a fare l'inizio della parte estetica della nostra farm Inoltre ho anche prolungato l'ascensore e ho sostituito la cobblestone adesso vi faccio vedere Allora qua come vedete ho fatto tutti i muri tenendo del vetro grigio E come vi ho già detto che voglio tenere uno stile tutto grigio appunto per ricordare che qua sta una famiglia di scheletri Qua ho messo del legno di acacia che è grigio anche questo Qua ho prolungato l'ascensore che poi fa cadere i nostri carissimi mob Adesso ne cade uno Le sento che salgono Comunque adesso dovrebbero cadere E appunto li fa cadere giù di qua Noi ci possiamo mettere la nostra comoda appostazione di FK Come si sta bene E... E niente ragazzi si sta qua in questa appostazione di FK Dove appunto non aspettiamo che appunto i tizi arrivino Adesso non arrivano perché... Ah no stanno arrivando sì o no? Ci mettono un po' a partire ma poi quando parte cominciano ad arrivare Comunque qua ho messo anche delle ceste O mi è arrivato anche un arco con indistruttibilità Very very cool E adesso ho fatto un po' di anzi un po' di pietra che... Eccoli eccoli là eccoli là Eccoli! Eccoli stanno arrivando Vedete le particelle che fanno anche che fighe Comunque pilliamoci tutti i loro drop e rimettiamoli nella cassa Oh eccoli qua Ehi ehi cosa succede? Ok così E questo anche Perfetto direi che prima di cominciare di nuovo a lavorare un pochettino a questo progettino E mi metto a cuocere un po' di altra cobblestone Infatti sono andato a minare anzi faccio vedere che ho creato praticamente una caverna Qua sottostante da qualche parte dove mi sembra di qua eccola Sì qua che scendeva già un bel po' Faccio vedere che noi scendiamo Di qua andiamo sempre dritti Ok di qua sì E scendiamo di qua e arriviamo praticamente all'altezza giusta per trovare del diamante Qua ho anche già girato un pochettino Vi faccio anche vedere Dov'è? Ok di qua Sì beh comunque non ho ancora trovato niente Sì ho scavato tanto Ho scavato e ho tirato via un po' di cobblestone Perché eravamo a corte di cobblestone Lo so può sembrare stare ma eravamo a corte di cobblestone E detto questo ragazzi Direi che adesso faremo ben due cose appunto Metteremo a cuocere altra cobblestone Creeremo due cose molto importanti in minicraft E niente prima facciamo queste cose qua Quindi risalia molto velocemente per favore Mangiamo un po' di pane Sì ho fatto un po' di pane perché non sapevo cosa cucinare Mi avevo stufato di fare patate cotte E così andiamo anche a dormire che sta facendo notte Sta facendo notte Ok E ditemi nei commenti se volete che faccio la farm anche di ragni Cioè penso che la farò Però ditemi più che tutto come la vorreste Se volete sempre il metodo di caduta O se volete qualcosa di un po' diverso Non so ditemelo voi ragazzi Voi mi dite cosa devo fare E io lo faccio Si sono ancora un po' scioccato dall'inizio del video con le banane Non lo so è abbastanza scioccante Però almeno vi ho fatto ridere un po' dai Non possono avervi fatto ridere O vi ho fatto ridere o vi ho fatto piangere Cioè qualcosa è successo Allora mettiamo a cuocere cobblestone Cobblestone Letto Poi ci serviranno diamanti Ossidiana Noi non abbiamo ossidiana Per fare ossidiana Ci servono dei diamanti Ben tre Tre diamanti Eccoli qua Si mi viene da dire tre diamanti Tre diamanti Tre diamanti Oh ecco qua Peacocks Pro Yeah Ok andiamo Allora Quindi questa la convertiamo in Non marmoldrick Ma bensì mattoni di pietra Ok E cos'altro facciamo ragazzi Andiamo a Pillare un po' di Obsidiana Obsidiana come la chiamo io Quindi per il tutto portiamo questa Oddio questa cobblestone Mattoni di pietra Ho la lingua incrociata Lo so Questi mattoni di pietra Dove devono stare Quindi qua Ok E finiamo giusto di fare questo strato Anzi lo faccio qua con voi Così non faccio dei tagli inutili Superflui Ok Mangiamoci qualcosa Perfetto E si stiamo già cominciando a creare Questo mi soddisfa alquanto Mi soddisfa Ok Ok Parliamo un pochettino ragazzi Non so se avete visto che è uscito un po' in ritardo il video di oggi O c'è il video di due giorni fa Oddio c'è stato un casino assurdo E comunque è uscito in ritardo un video Perché sono andato a fare l'esame della patente ragazzi Infatti il vostro caro ferre for the win Ferder for the win È ufficialmente un imbecille patentato ragazzi Quindi potrebbero starci dei vlog un po' particolari Ma questo lo vedremo più avanti Ehm Ah eccoli là gli scritti cominciano a cadere Sto pensando Adesso che abbiamo messo tutta questa cosa qua Come strutturarlo Perché io avrei un progetto in mente Ovvero fare una specie di tetto Però ci serve veramente tanta cobblestone per farlo Quindi direi che Dovremmo leggermente aspettare Sì penso proprio di sì Ehm Ci serviva quasi tutta questa cobblestone Ma penso che lo farò off camera Perché altrimenti vi cadono le Le noci di cocco Allora andiamo a pigliarci un po' di Obsidiana come ho detto E poi andremo appunto a fare anche Magari un spazio per l'esperienza Uno spazio per l'incudine Infatti penso che costruiremo anche un'incudine Ehm E niente ragazzi Allora dove devo andare Mi sono già perso Ho sbagliato strada Più che essermi perso Ho sbagliato strada Sono entrato nella caverna Sbaglieta Andiamo di qua Mangiamo altro pane Ok Ciao pecora Allora andiamo giù di qua Opa Aia Non ti ammazzare magari Ferbuson Se oggi sono particolarmente rincoglionito Voglio chiamarmi Ferbuson Ferbuson for the win Ok sono una capra Allora andiamo di qua E scendiamo di qui Allora Dai corri per favore Please Corri E' qua che ho trovato l'obsidiana Si è quella qua l'obsidiana Allora Facciamo una cosa così Eee Così Aiuto 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 Allora rompiamo questo E opla Ok E si comincia a farmare Obsidiana Eee Si ve lo faccio un taglio State tranquilli Non penso che registrerò questa parte noiosa Perché guardate quanto ci metto a romperne Un solo pezzettino di obsidiana E me ne servono Penso che Sterminerò tutto questo laghetto almeno Quindi faccio un piccolo taglio Ci vediamo tra e pochissimo Ok ragazzi Eccoci Si Eee Ho qua giustato un pochettino l'orto E ho anche farmato un bel po' di obsidiana L'orto mi sembra che ve lo avevo già fatto vedere Non lo so Comunque se io non ve lo avevo fatto già vedere Eccolo qua Questo che è il nuovo orto Qua piantarò più patate adesso Perché mi seguono più patate Il pane E' più sconveniente Perché Per fare una pagnotta Di pane Ci vanno tre pezzi di grano Mentre per fare Una patata cotta Ci va una patata E cuocerla appunto Quindi E' vero che faremo l'arde Anche del carbone Però Almeno risparmieremo In un certo senso Quindi per risparmiare Devo investire Le nostre patate Nel nostro orto E non intendo investirle con il trattore E fare degli allievi contadini Ma intendo Investirle Piantandole Invece che cucinandole Ok Sì Direi che ne ho piantate abbastanza Allora Facciamo un attimo in un conto Mi manca una patata Giusto Un libro Ah però ce l'ho il libro Volendo Mi sono della carne a zucchero Volendo anche quelle Cavolo Volendo io ho tutto Allora Mettiamole qua Le carne a zucchero In modo che possano Vabbè no Qua proprio in mezzo Alle scatola Bowser no Andiamole a mettere Tipo Qua Tipo E sottolineo tipo Ecco tipo qua Uh lascia una gallina Non è che mi fai un uovo gallina Sto aspettando l'uovo Io mangio il pane Tu fai l'uovo dai Non hai intenzione di farlo Pazienza Adesso plop Allora Tac Via cominciamo Ehi Ehi Ah no qua non si può Ok Così quando Crescerai mi buttoro qua E farò tipo Vuuu E le prenderò tutte Ok Queste qua invece le investiremo Per fare la carta E appunto con la carta Faremo il libro Con il quale faremo Oddio Non so focare Con il quale faremo Il Il tavolo degli incantesimi Con il quale faremo Tanti belli incantesimi E poi faremo anche l'incudine Faremo tante belle cose ragazzi Tante belle cose Allora E saliamo Dai su Sto erampicate Tattiche Ok Allora di qua Entravo in casa Prendiamo le patate cotte E craftiamo Come i pazzi Allora Opla 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 No Così credo V Che pro Tacate Un libro Poi facciamo Senza diamanti Non facciamo niente Ce ne servono Due Ok Facciamo Tricchete E Tracate Tricchete E Tadadadada Sì lo so Farò una cazzata Lo piazzo qua Si può rompere Sì per fortuna Altrimenti l'avevo appena perso Ok Altre patate E Ferro Si vede il Ferbuson Grazie Allora facciamo Uno di questi Un altro di questi Un altro di questi Ne facciamo tre Facciamo Opla Tac 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 Ok Anche l'incudine è fatta Adesso andiamo a riporre Tutto quanto Molto educatamente qui Ok E E Cos'altro ci manca Direi niente Farmeremo un po' di pelle Poi off camera Però direi che siamo a posto Qui adesso andiamo a dare a farm Di Scheletri O meglio di Scalitri Perché li chiamo così Non lo so Però li voglio chiamare Scalitri E Scaltri Scaltri Ecco scaltri E Niente Li piazziamo Li piazziamo così Tranquillamente Piazziamo tranquillamente Forza Mangiamoci Anche un po' di Pene Di pene Qua non si carica niente Però un gentilissimo utente Mi ha detto che con F3 e A Faccio i miracoli Grazie utente Sarei sempre al mio cuore E Lo piazziamo qua Dio mattino Tipo qua mi trovo le librerie Tipo Qua un blocco E noi lo piazziamo qua Qua però Bisognerebbe farlo un po' più alto Si vuole fare una cosa un po' strana Ok Qua non si può già piazzare Mi è finita anche la spada Pericolo Allora facciamo attività dei conti Io Voglio fare una zona qua Partiamo da questo presupposto Mi Io dovevo entrare circa qua Ok Qua io dovevo entrare Quindi questa zona va abbattuta E va rifatta Eh sì Purtroppo sì Se la vi Ok E adesso abbatterò Abbatterò Sì abbatterò tutto questo Farò uno spazio anche di là Per l'incudine E poi appunto Procederò con la decorazione E ci vediamo tra pochissimo Ok ragazzi Rieccoci qui in questo Penso ultimo stacco Rompiamo Uccidiamo un po' di scheletri Che non fa mai male Perché voglio farmare un pochettino Anche se ho già ben 40 livelli Comunque lavorando Ho Ucciso un po' di scheletri Perfetto Riponiamo tutta la roba nella cassa Giustamente Uh abbiamo poi degli stivali Very cool Ok Qua è l'ossidiana Che appunto No ve l'avevo già fatto vedere prima Scusate E E cos'altro Devo fare vedere E appunto L'avore che ho fatto Ovvero Incudine Qua magari metto della lava Comunque sicuramente Cambierò un po' questa Decorazione Perché È Diciamo Carina Mi piace Però la voglio un po' più Un po' più Ecco Un po' più Mentre di qua Ho fatto Una cosa di questo Genere Ovvero Qua Andranno messe tutte le librerie Per due Alte due Logicamente E qua appunto Potrò fare incantesimi Come questo Fragile delle otropodi Schifo Sto male Ok ragazzi Direi che quindi Per questo video È tutto Io vi ringrazio Come al solito Vi invito a lasciare un like Perché youtube È stronzo Come sapete E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti